Raggio gelante, raggio gelante, raggio gelante! Per Gru, essere un super cattivo non è facile. Abbiamo rubato la statua della libertà! Quella piccola di Las Vegas! Deve tenere a bada... Ascoltate bene, prego! Un esercito di tiravievi... Deve essere più furbo... ...del suo spietato arcinemico. Raggio restringente, no! Io l'odio quello. E sta per avere... Tre piccoli problemi. Allora, niente pianti, starnuti, ruttini o puzzette. Niente rumori molesti. Questo vale come molesto. Da Universal Pictures. Noi compiremo il vero crimine del secolo! Ruberemo... La luna! E Chris Meledandri, produttore esecutivo dell'Era Glaciale e Ortone e il mondo dei chi. Restringo la luna, rubo la luna, mi siedo sulla tazza con... Sei buffo! Fuori! Quando avrò finito con Gru, mi chiederà pietà in ginocchio. Dobbiamo avvertirlo. È in fretta! Quest'anno... Anche se è un cattivo. Non vuol dire che sia cattivo. I tre gattini cominciarono a sbadigliare. Adesso fai libero il latte. Questa è una schifezza. Ma vi piace davvero? Cattivissimo me. In un 3D spettacolare. È soffice da morire! Si deve solo buttare giù l'astronave. Oh, qualcuno ha messo il broncio. Ok, tocca a me. Ho vinto! È proprio soffice! Cattivissimo me!